Prendete un momento l'ultimo brano, St. Thomas, intanto un attimo solo i sax, solo i sax. Vediamo sassofoni la parte dello special, battuta 109, cominciamo da questo particolare. Success, sotto tempo. Siamo tutti incollati al primo. 1, 2, 3. Ok, non siamo incollati proprio. Vediamo adesso un altro punto problematico del brano, battuta 67, cioè un ensemble. Possiamo fare una cosa, possiamo pronunciare legata tutta la terzina e tutto il resto staccato. Leggiamo adesso sempre sotto tempo tutto questo periodo. 1, 2, 3, 4. Ok, non è male. Diamo un pochino di dinamica sulla frase. Qui è tutto abbastanza forte, no? Cioè, scendiamo, intanto è anche indicato, eh? L'ultima battuta, eh? Li diminuiamo. Aumentiamo un pochino e siamo swing qui però, ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.